La mattina alle ore 9.30 un incendio ha colpito il Lido Paradise di Siderno distruggendolo quasi completamente. Le fiamme che potrebbero essere di origine dolosa hanno avvolto la struttura balneare in pochi minuti. Il Lido era stato sequestrato per via di un'interdittiva antimafia che qualche anno fa aveva colpito i proprietari della struttura. Lo stabilimento balneare era stato già colpito qualche anno fa da un incendio che l'aveva danneggiato. Successivamente era stato assegnato dai commissari prefettizi che gestiscono il comune sidernese qualche mese fa all'associazione Marinaia d'Italia alla sezione di Siderno. Per via dei ritardi quest'anno lo stabilimento era rimasto chiuso. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigi del fuoco del distaccamento di Siderno che hanno tentato di sedare le fiamme.